Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba di mercoledì mattina quando 20 carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, supportate da due unità cinofile antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Firenze, hanno fatto eruzione nelle abitazioni di tre pusher sottoposte tutte a perquisizione. Così si è conclusa una maxi-operazione antidroga che ha portato all'arresto di tre albanesi di 28, 27 e 26 anni residenti tra Montevarchi e Terra Nuova Bracciolini. Ma a questi ordini di custodia cautelare in carcere si aggiunge anche l'arresto di un altro uomo, sorpreso a fine 2017 in flagrante accedere cocaina fuori dal locale di Terra Nuova Bracciolini. Ed è proprio dall'arresto del giovane albanese che hanno preso avvio le indagini portate avanti dai militari con pedinamenti ed attività di osservazione e controllo. I carabinieri sono così riusciti a risalire all'identità degli altri tre spacciatori che, secondo gli investigatori, trattavano questo tipo di stupefacente almeno dal 2016. I quattro infatti acquistavano cocaina in grandi quantità per poi metterla sul mercato al dettaglio. Per muoversi utilizzavano il passaparola per la cessione. Invece veniva fissato un luogo quasi sempre all'aperto e lì avveniva il passaggio a mano di piccole quantità di stupefacente. Nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Arezzo vengono contestate ai tre plurime cessioni di sostanza stupefacente a numerosi giovani valdarnesi, dei quali una settantina identificati e sentiti a sommare informazioni dai militari. I carabinieri hanno inoltre sequestrato 16 grammi di cocaina e 5.200 euro in contanti ritenuti dagli investigatori provento dell'attività di spaccio. Tutti gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati portati nel carcere aretino di San Benedetto a disposizione dell'autorità giudiziaria.